il secondo e non si avranno già trovato i soldi per la cauzione quando avrai finito a manetta lì portali fuori di qui fuori 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 scusa scusa Deschi prima mossa a Stanley ciao Rosellen c'è movimento eh? sempre nei giorni di paga sai ci sei molto mancata domenica scorsa in chiesa vi rifarete alla prossima lo spero dieci ora e state buoni fermi tutti fate esattamente quello che vi diciamo e non vi raffatto del male tenete le mani in alto grazie grazie oh grazie e tu dove hai messo i soldi? oh grazie e ciao bella fatta oh grazie ecco avanti tutti nel retro niente storie svelta 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 non chiudeteci di dentro oh no no vi prego dai siete tu aiuta aiuta aiutatemi qualcuno mi aiuti forza tutti dentro muovetevi vi prego mi lasciate con tutti questi uomini vi prego ehi mi sono perso la fata ma tu pensi alle donne anche quando rapini una banca eh ti vuoi sbrigare se qualcuno ci nota comincia a sparare pronti? tieniti forte belladesi li hai in pugno questi due sono la mia vera passione scolla gli occhi da lì e dammi una mano il capo sono io Stelio senti la vuoi smettere di chiamarmi Stelio? il mio nome è Irving non farmi ridere la prossima volta tu sarai Gianni e io Pinotto ha 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 ha